La vita e le frasi più belle di Giovanni Falcone. Giovanni Falcone è stato un eroe, un simbolo di coraggio e determinazione. Era un uomo di legge, ma soprattutto un uomo di azione. La sua vita è stata una lotta senza tregua contro la mafia, un impegno che ha pagato con la vita. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Questa frase di Falcone ricorda l'importanza del coraggio. La paura è un nemico da combattere, non un compagno da accettare. Nella vita bisogna avere il coraggio delle proprie idee. Falcone ha insegnato che le nostre idee valgono, che la nostra voce conta. Non dovremmo mai smettere di lottare per ciò in cui crediamo, per i nostri sogni. La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Questa frase ci dà speranza. Non dobbiamo mai dimenticare che siamo più forti di qualsiasi ostacolo. Preferisco morire in piedi che vivere in ginocchio. Queste parole di Falcone sono un inno alla dignità, un monito a non piegarsi mai di fronte all'ingiustizia. Dobbiamo sempre lottare per ciò che è giusto. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e cammina a testa alta muore una volta sola. La paura può paralizzarci, ma il silenzio è complice. Non dobbiamo mai smettere di parlare, di lottare per la verità. Non si può vivere di sola speranza, ma senza speranza non si può vivere. Falcone ricorda che la speranza è il motore della vita. Non dobbiamo mai smettere di sperare, di credere in un futuro migliore. L'importante non è vivere, ma vivere bene. La vita non è solo un accumulo di giorni, ma la qualità di quei giorni. Dobbiamo cercare di vivere al meglio, di lasciare un segno positivo. Sono convinto che la mafia sia un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Questa frase ricorda che nulla è eterno, che il male non può trionfare per sempre. Nessuno può dirsi estraneo a questa battaglia. Ognuno di noi ha il dovere di fare la sua parte. Falcone invita a prendere posizione, a non restare indifferenti. Ognuno di noi può fare la differenza. Ognuno di noi può contribuire a cambiare il mondo. Ricordiamo Giovanni Falcone, il suo coraggio, la sua determinazione. Ricordiamo le sue parole, il suo esempio. Lottiamo per un mondo migliore, non smettiamo mai di sperare. Siamo il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo.